ah sono appena tornato dalla zona rossa e guardate un po cosa ho trovato un m16 una katana un'altra katana e una glock allora innanzitutto cosa dobbiamo fare per fare la zona rossa senza portarci delle armi da fuoco e vestiti o porca miseria un momento il video parla no armi giusto sì no armi su picchiami fammi vedere cosa si fa mi sta picchiando ok come mi ha disturbato sì lo so allora innanzitutto non ci basta che andare nudi posso un attimo delle cose e dando il vagonetto qua non mi frega niente vado e metto questi vestiti qua allora e mi porto vediamo un martello dai un martello sì però va bene anche una macete tutto restiamo sempre bassi perché sono le basi camminare silenziosamente mi raccomando nella zona rossa non è una passeggiata quindi vi consiglio veramente di abbassarvi allora ecco cosa fare se vedete un anzannatore rapido ignoratelo c'era questo tizio vita delle corte ma non mi da niente poi abbiamo un altro tenuto legato ecco qua il nostro amichetto allora ragazzi ecco cosa fa sappiamo il masticcio impossibile quindi andiamo via questo strozzo mi toglie quasi tanta vita o attenzio calma di è me ne sto andando allora come farmare allora qui per favore non farmate cioè non tagliate alberi andate in giro per la zona e cercate di trovare qualche baule uno zainetto così all'interno potete non so trovare qualcosa di molto raro molto utile che ecco aspettate un attimo vediamo cosa c'è qua dentro mi riferivo proprio a questo guardate 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 mi curo un attimo scusate ecco ok abbiamo trovato una benda chiave inglese ok allora qui invece potete darvi da fare uccidete più animali possibili perché vi serviranno per i vostri cuccioli ok ecco i tizi porca miseria io esco di nuovo è già impossibile qua dentro io faccio di tutto per risparmiare no 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 ciao 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 faccio una cosa minchia un mago perfetto quasi morti tutti si porca miseria questo si 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 attacca il tuo amico vai vai attacca il tuo amico ciccione mamma mia quanto odio sto schifoso pezzo di merda oh muore muori muore oh frego fregato così si gioca ragazzi così si gioca va be con una mannaia non ce l'avrei mai fatta quindi molte Oddio, stavo... Madonna, no, 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 vi prego. Io l'ammazzo con questo! Basta! Maledizione. Senza armi, no, no, io non uso nessun'arma, no, 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 io non uso niente. Farò un'eccezione? Tanto è un video tutorial, mi dico. Ecco, ti pare... No, Dio! No, Dio, porno, no! Viene qui, c'è geno. Minchia, solo i pazzi possono andare qui, oh. Senza niente. Muori. Grazie. Dai, 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 dai. Grazie. Andate lì, portatevi delle bende, qualcosina per sicurezza, come me, la catana, la catana, e quindi... Quindi, grazie tante per questa visione, spero di essere stato abbastanza chiaro, anche perché... Mi sono incazzato veramente, perché quello mi stava ammazzando, e... Troverete di sicuro queste cose. Già, di sicuro queste cose. Quindi, ciao a tutti! Grazie. Grazie.